Guarda che questo non mi diverte affatto. Lui lo sa che non mi piace quando corre. Non guidavo io, guidava Jenny. Ti lo giuro, è convinta di avere nove vinte. Su, dammi il capotto. Dove eravate? Avete dimenticato dove abitiamo? No, un attimo. Lui è mio padre William. Papà, lei è... Edeline. Sono Jenny, veramente. Papà, ti senti bene? È solo che tu sei assolutamente identica a una mia vecchia amica, Edeline Bowman. Perché era mia madre. Stai scherzando, davvero? Sì. Oh, santo cielo. E quindi la conosceva? Certo. Sì, insomma. Eravamo molto legati, io... Sai, io l'avevo conosciuta a Londra. Sì, è vero. Aveva vissuto a Londra negli anni sessanta. Subito prima di trasferirsi a Parigi e conoscere mio padre. Incredibile. Quante sono le probabilità? Quello in mondo. Wow. La somiglianza è assolutamente strabiliante. Te l'avranno detto chissà quante volte. Così tante che ho perso il conto. Accidenti. Eravamo molto legati. Questo l'hai già detto, tesoro. È incredibile che tu non ne abbia mai parlato. No, dai, io penso di avertelo detto. No, no, io me le ricordo le amiche a cui sei tanto, tanto legato. E come sta adesso? Sta bene? Purtroppo ci ha lasciati. Sei anni fa. No, davvero? Accidenti. Mi dispiace tanto. Era una donna straordinaria. Una caratteristica di famiglia. Insomma. Sì, dunque, andiamo. Volete qualcosa da mangiare? Sì, sì, ho fatto la cheesecake. Sai, siamo un po' stanchi in effetti e penso che andremo di sopra se a voi non dispiace. Anch'io. Sul serio? D'accordo, ti metto nella camera in fondo. Andiamo. Tu prendi quella piccola. Ciao. Ciao. È un piacere averti qui. Sì. Allora, la vostra camera è pronta. Oh, certo. Ciao, amore. Allora, la vostra camera è pronta. Allora, la vostra camera è pronta. Bello. Signorina. Signorina. Se continua così, ingolferai il motore. Grazie. Grazie del prezioso consiglio. Se non altro avrà una bella abbronzatura. Mi dispiace, ma ho fatto tutto quello che potevo per farla ripartire, solo che non ne vuole sapere. Quello che ci vuole è una partenza spinta, quindi lei tolga il freno a mano e al resto penso io. Grani la marcia e vedrà che riparte. Va bene. Grazie. Pronto? Certo. Pronta? Certo. Bene. Ora in grani la marcia. Grazie. Di niente. Grazie. 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 Grazie.